E prima di dare la parola a Marco, comincio con un caveat, con quello che in inglese viene chiamato disclaimer, su questa ricerca, perché ora abbiamo detto una sua valenza per chi potrebbe essere utile, quindi associazioni, istituzioni che vorranno, abbiamo detto che sicuramente va approfondita su diversi aspetti e questo è soltanto il primo mattoncino su cui cominciare. Però c'è da dire una cosa, questa ricerca nasce con un'ambizione non quantitativa ma qualitativa. E quindi i risultati di questa ricerca ci indicano dei trend, sicuramente. Sono una fotografia di un campione che va più o meno dal 2014 al 2018 per chi è emigrato in questa fascia temporale e che non è totalmente rappresentativa dell'intera curva di emigrazione. Anche perché sappiamo tutti che per esempio i dati Aire temporalmente non rappresentano al 100% la realtà perché soprattutto la nuova emigrazione si iscrive all'Aire molti anni dopo, quando il suo progetto di vita comincia a stabilizzarsi. Di contro riuscire a recuperare dai vari paesi e dalle varie anagrafi il reale distribuzione anche di età eccetera è molto difficile anche perché paese per paese spesso le regole sono un po' diverse e quindi i vari registri dei vari comuni è una cosa molto molto complessa. Quindi c'è da dire che questi risultati si focalizzano su una fascia di età che va dai 20 ai 55-60 quindi c'è un grosso pezzo di nuova emigrazione e poi chiaramente il fatto di non avere ultra 60 anni può essere dovuto ma potrebbe non essere l'unica ragione anche al modo in cui il questionario è stato somministrato che è fondamentalmente online quindi ci sono chiaramente a volte ci possono essere delle difficoltà con il mezzo tecnico. Quindi ripeto questi sono dei trend, lo diciamo e lo ridiciamo per evitare anche polemiche che possono accadere in futuro. Non vuole essere un lavoro esaustivo, vuole essere un primo passaggio di un qualcosa di molto più strutturato che con alcuni dei partecipanti abbiamo già cominciato a mettere dei tasselli che ci potrebbero portare in alcuni paesi ad approfondire alcune tematiche. Quindi detto questo lascio la parola a Marco per il suo intervento e per un po' mi taccio come si dice qui. Bene, grazie Pietro, grazie a Rodolfo anche per l'apprezzamento per lo sforzo che abbiamo fatto. Partendo dal caveat di Pietro appunto che i risultati sono di una ricerca parziale da un punto di vista quantitativo, quindi potremmo già dire in ogni caso abbiamo intervistato e analizzato dei dati che sono molto più numerosi di quelli che utilizzano normalmente i giornalisti della stampa mainstream quando poi cominciano a scrivere articoli sulla nuova emigrazione italiana. Quindi un piccolo salto in avanti l'abbiamo fatto. Partendo per questa breve, molto breve presentazione della ricerca, mi ero un po' discutendone con Pietro prima di questa presentazione e avevo pensato a tre spunti principali, almeno tre cose che a noi ci hanno colpito un po' nel risultato finale di questo primo step di ricerca. Il primo è già qualcosa che è stata ribadita nei lavori più seri sui nuovi flussi migratori, penso ai vari rapporti della Fondazione Migrantes, ma penso anche ad esempio, l'ha già citato Pietro, a alcuni lavori importanti sull'emigrazione negli ultimi anni. Chi è che emigra? Sapete che la polemica è spesso stata fatta rispetto a questa formula dei cervelli in fuga, una formula che è attrattiva, che ha avuto sicuramente il merito di toccare l'attenzione di un pubblico normalmente distratto rispetto a questa tematica. Fino a non molto tempo fa, parzialmente ancora oggi, in Italia se si parla di flussi migratori, si parla dell'invasione da parte dei migranti che vengono dal Nord Africa in Italia, e non si parla del flusso in uscita dal nostro paese. Ecco, una cosa che noi abbiamo riscontrato, banale, però che abbiamo riscontrato sui dati, è che più che di cervelli in fuga potremmo parlare di forza lavoro mobile. La gente che parte, parte sostanzialmente per cercare un lavoro, per cercare un lavoro migliore, per cercare soprattutto un lavoro che abbia un salario che permetta una vita degna. Più della metà degli intervistati nel nostro lavoro partivano da una situazione di non lavoro o di estrema precarietà. E anche questa cosa sul tema della precarietà sono emersi delle informazioni nella lettura del questionario e anche in alcune interviste qualitative che abbiamo fatto con alcune delle persone contattate su una sorta di interiorizzazione del concetto di precarietà. Su questo si è parlato molto, anche perché migrare e lasciare l'Italia non significa uscire da una situazione di precarietà. Spesso e volentieri chi arriva nei vari paesi europei resta a lungo tempo in una situazione di precarietà, caratterizzata però da salari più alti e spesso, a perlomeno prima della nuova crisi provocata dal coronavirus, anche con una copertura, con uno stato sociale e una serie di protezioni maggiore. Dicevo di questo strano concetto, questa interiorizzazione del concetto di precarietà, abbiamo notato che nelle risposte alle domande spesso e volentieri il concetto di lavoro non precario sembra non essere legato esclusivamente a una questione contrattuale, cioè c'è un contratto a tempo indeterminato, quanto piuttosto a una continuità salariale di entrata economica nel tempo. Per cui hanno definito la loro condizione lavorativa come stabile, anche persone che poi a successive domande rispondevano di avere contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione, quindi come se la stabilità, la non precarietà, forse con una forma tardoperaista, fosse concepita più sul salario, sulla continuità del reddito, che su quella della vera e propria condizione contrattuale. Un altro spunto che ci ha colpito è un po' un avexato questio nel dibattito sulle nuove flussi migratori, è quella di come si autodefiniscono soprattutto quelli più giovani, fra coloro che intraprendono un flusso migratorio, lasciano l'Italia. Quindi la questione è se si parla di expat, espatriati, o se si parla di emigrati. Allora, noi abbiamo notato che in moltissime delle persone, in questo limitato campione, poco più di 700, quasi 750 persone intervistate in totale, la tendenza spesso e volentieri è quella a autodefinirsi come espatriati. E in alcune delle interviste che abbiamo fatto, abbiamo notato che potremmo dire che questa definizione si basa un po' su tre grandi direttive. C'è una lettura, per utilizzare una terminologia antica ma sempre valida, classista della parola. Io sono un espatriato, o non un emigrante, ricordiamo che espatriato è un termine che nasce in un mondo specifico professionalmente, che è un professionista che si trova a vivere un periodo limitato di tempo all'estero inviato dalla sua impresa, spesso e volentieri parliamo di professionisti che lavorano in grandi multinazionali, che si trova a lavorare all'estero. Quindi c'è una sorta di dire, io non è che sono partito con la valigia di cartone perché non c'avevo lavoro, o sono un espatriato. Però, a fianco a questa accezione, diciamo, dal nostro punto di vista estremamente negativa dell'autodefinizione, abbiamo notato che ci sono altre due maniere di leggere questo termine. Il primo è una sorta di pudore, in un periodo in cui, quando parliamo di migranti, di flussi migratori, si pensa al dramma di chi cerca di arrivare nella fortezza Europa, si pensa al dramma del Mediterraneo, dell'enorme cimitero che è diventato il Mediterraneo, e in queste persone, che in ogni caso sono europee e si muovono fra i differenti paesi europei, c'è una sorta di pudore a utilizzare la stessa definizione per chi vive un'esperienza talmente più drammatica. La terza maniera di intendere questo termine ci è sembrata invece legata a un concetto di mobilità. Chi lascia l'Italia, soprattutto per quella che è i flussi migratori in Europa, sembra non avere un arrivo stabilizzato. Non si lascia l'Italia per andare in Belgio, già convinti, o in Francia o in Germania, già convinti che sarà lì che si vivrà la propria vita professionale. Né pensando in maniera scontata che sia un'esperienza dalla quale a limite poi si ritorna indietro, punto e basta. No, moltissime delle persone che abbiamo contattato, che abbiamo intervistato, sono arrivati nei paesi in cui si trovano adesso dopo aver fatto già delle altre esperienze. E quindi in questo senso il concetto di espatriato sembra essere il concetto di chi continua, di una forza lavoro mobile, che è cosciente che la ricerca di una condizione lavorativa, e di un salario continuativo, spesso e volentieri determina il fatto di una loro mobilità anche tra differenti paesi. L'ultima cosa, l'ultimo spunto che voglio gettare lì per la nostra discussione, anche fra le cose che ci avevano colpito, era una caratteristica che noi, che certamente non scopriamo noi per primi, che ci ha colpito. Cioè questo fatto che gli intervistati normalmente, numero uno, conoscono il paese in cui sono arrivati, perché c'erano già stati, avevano guardato, o perché appunto fa parte di un percorso migratorio che non è unidirezionale. Seconda cosa, nel mondo delle low cost, nel mondo della tecnologia, mantengono rispetto alle esperienze dei precedenti flussi migratori dall'Italia, un rapporto fortissimo con il proprio paese. L'insieme degli intervistati ci ha dichiarato di ritornare perlomeno una volta all'anno in Italia e oltre la metà ha parlato di più volte. Alcuni, una fetta considerevole, addirittura ci ha detto che tutti i mesi tornano. Ecco, questo per esempio sarà estremamente interessante nel futuro analizzare questo aspetto, questa caratteristica particolare nel post-coronavirus, nel post-covid. Nel senso che una delle cose che sembra in questo momento saltare, con i suoi aspetti estremamente positivi da un punto di vista ambientale, ma che potrebbero sconvolgere il modello migratorio di questi nuovi flussi migratori, almeno in Europa, è quello della facilità del muoversi, è quello di avere questa rete di compagnie low cost, di aerei o di autobus, pensate al ruolo di Flixbooks, nel quale monti e con poche decine di euro ritorni a casa o attraversi l'intera Europa, questo mondo potrebbe essere completamente spazzato via nel post-covid, già lo vediamo oggi nelle nostre città, qui a Bruxelles è impressionante la quantità di macchine che già sono in circolazione, gli autobus passano abbastanza vuoti e il flusso di traffico in bicicletta o in macchina è aumentato in maniera impressionante. Ecco, mi fermo qui perché già mi sono allungato rispetto al tempi che Pietro mi aveva proposto, però ecco, come tre spunti di cose che a noi ci avevano un po' colpito e che andavano in qualche maniera anche fuori dal cicaleggio che si sente normalmente negli articoli di giornale o nei servizi televisivi su questi nuovi emigranti, i nuovi flussi migratori che partono dall'Italia. Grazie.